Bentornati a questo nuovo appuntamento di cordiario su chitarra acustica. E come negli appuntamenti scorsi stiamo esplorando l'argomento degli esercizi di riscaldamento. Un argomento interessante, a volte sottovalutato, ma molto molto importante per riuscire a mantenere in allenamento i nostri muscoli e prepararsi adeguatamente per una performance dal vivo o in studio o comunque diciamo anche per una sessione di studio e farlo in maniera diciamo adeguatamente pronta senza rischiare delle lesioni, senza rischiare di farsi male. In queste serie di esercizi stiamo vedendo degli esercizi specifici per curare degli aspetti particolari, quindi coordinazione, potenziamento, sincronismo. Oggi vedremo un altro semplice esercizio per lavorare in particolare sulla coordinazione di tre dita della mano sinistra, cioè indice, medio e anulare. Partiremo con un esercizio a quartine di sedicesimi, questa volta partiremo dalla parte alta della tastiera, quindi dal dodicesimo tasto, a scalare verso le prime posizioni e avremo un esercizio cromatico che appunto eseguiremo suonando delle note togliendo di volta in volta ciascun dito dalla tastiera in maniera da lavorare appunto sulla coordinazione della mano sinistra e in particolare appunto di queste tre dita. La mano destra avrà un approccio abbastanza standard, anche se utilizzerò nelle due serie di note che adesso vi faccio vedere, due serie di set di dita diverse, utilizzerò prima anulare, medio e indice e poi anche utilizzerò il pollice. Quindi direi vi faccio vedere molto lentamente questo esercizio da vicino partendo dal dodicesimo tasto e andando cromaticamente verso le prime posizioni. Grazie a tutti! Bene, questo era l'esercizio, vi ricordo come sempre di iniziare molto lentamente, di curare la precisione, di curare la coordinazione anche delle due mani e di andare molto lentamente proprio per mettere ogni elemento al proprio posto. Poi potete in seconda battuta iniziare da un BPM diciamo piuttosto basso per poi incrementare e andare a cercare di lavorare anche sulla velocità che vi ricordo non è mai l'obiettivo di questi esercizi. Può essere una sfida, può essere sicuramente un obiettivo personale interessante per provare a mettersi alla prova ma questi esercizi hanno appunto lo scopo di lavorare su questi elementi tecnici, in questo caso la coordinazione e appunto effettuare un buon riscaldamento. Quindi procediamo in maniera graduale da un BPM basso poi pian piano possiamo aumentare la velocità. Bene, chiudo qui il video, ci vediamo nel prossimo appuntamento, il prossimo mese sempre qui su Chitarra Acustica e nel frattempo buon fingerstyle e buona chitarra acustica.